questo è quello che abbiamo fatto devo fare questo non si è sonato si è trattato vi fai di nuovo siamo umani siamo quasi vanno adesso vi farò l'altra volta poi buttare i settini nulla zero eh lascio provare allora 39 fa sempre la somma 39 38 e 39 vado bene 41 top metti so so va bene qua e mettiglielo sopra poterne con ha fatto 57 fa 17 18